Un bruttissimo raffreddore. Si accomodi, venga pure avanti. Entri, mi dica. Buongiorno, dottore. Ho un bruttissimo raffreddore e anche la tosse. Mi soffio sempre il naso. Appena respiro, comincio a tossire e mi fa male il petto. E anche la testa. Ora vediamo. Si sieda sul lettino e si levi la camicia. Respiri profondamente più volte, così. Tiri fuori la lingua che le guardo la gola. Bene. Si sieda e le faccio la ricetta per andare in farmacia. Niente di grave, spero. No, non si preoccupi. È un grosso raffreddore, ma si deve curare, se no può diventare una bronchite. Scusi, possiamo darci del tu? Sto imparando l'italiano e non so ancora usare bene la forma di cortesia con il lei. Ma certo. Hai l'età di mio figlio. Vieni, siediti qui e ascoltami bene. Va subito in farmacia e prendi queste medicine. Ma vacci subito e prendile già questa sera, per non fare peggiorare la tosse. Dimmi, non hai avuto la febbre in questi giorni, vero? No, no. Niente febbre. Solo tanto mal di gola quando tossisco. Bene. Allora basta lo sciroppo. Prendine un cucchiaio tre volte al giorno. Mi raccomando, fallo. Curati per bene. Il raffreddore e la tosse possono diventare cose molto serie se non sono curate come si deve. Dunque, non prenderle alla leggera. Non trascurare la tua salute. Le faccio la ricetta per andare in farmacia a comprare le medicine. Prenda un cucchiaio di sciroppo tre volte al giorno. Se non la curi, la tosse può peggiorare.